Riccardo Arditi ha 15 anni. Vive con i suoi genitori e sua sorella a Bologna. Vivono in un grande appartamento in centro. Il padre di Riccardo è un medico. Sua madre è un'infermiera. A Riccardo piacciono la matematica e la biologia. Gioca a calcio. Sua sorella ha 17 anni. Le piace imparare l'inglese e giocare a tennis. Pasquale Esposito ha 21 anni. Viene da Catania. Studia economia aziendale all'Università Bocconi di Milano. Vive con altri due studenti in un piccolo appartamento. Il sabato Pasquale lavora in un bar come cameriere. Pasquale ama la vita notturna della città. Stefano Colombo ha 38 anni. È un ingegnere meccanico. Lavora alla Fiat di Torino. Non vive a Torino, però. Vive con sua moglie e i suoi due figli a Volpiano. La famiglia vive in una casa indipendente. sua moglie ha 36 anni. È una psicologa. Nel fine settimana la famiglia Colombo fa delle gite in montagna. grazie per aver ascoltato questo episodio. Per domande, commenti o suggerimenti Italian with Grace è su Facebook, Instagram e Telegram. Per accedere alla trascrizione del podcast, unirvi alla community ed italianizzarvi, venite su www.italianwithgrace.com.